Avvocato Giacinto Favalli, partner dello studio Trifiron & Partners, il suo intervento sul giustificato motivo soggettivo in questo convegno sul licenziamento, come si inserisce, qual è l'attualità di questa tematica? L'attualità di questa tematica deriva dalla normativa del 2012, dalla legge Fornero, che in qualche modo ha messo al centro dell'attenzione quando si entra nel settore del licenziamento e tra i vari tipi di licenziamento il giustificato motivo soggettivo, l'importanza della contrattazione collettiva, quindi per l'identificazione delle fattispecie sanzionabili con licenziamento e rapporti tra questo tipo di elencazioni e le elencazioni dei provvedimenti che invece devono essere sanzionati con sanzioni conservative. C'è tutto un dibattito sulla sovrapposizione dei due campi e quindi questa è la relativa novità di questa tematica.